Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Shopping! Con le saccocce nostre! Allora, praticamente stamattina abbiamo deciso di andarci a fare un giretto all'outlet. L'outlet più vicino a casa nostra è quello di Valdichiana. Allora, non è proprio l'outlet della vita, perché non so se vi ricordate un po' di tempo fa siamo stati a Serravalle, a quello di Serravalle, quando siamo stati su a trovare degli amici. Non c'è paragone? Ma proprio non si possono mettere neanche vicini, no? Non sullo stesso, si chiamano outlet entrambi, ma va bene. Quello di Valdichiana è carino, perché è strutturato bene, ci sono diversi negozi, ma chiaramente non c'ha niente a che fare con quello di Serravalle, ma neanche con quello di Roma, nessuno dei due, ma neanche con il Demol di Firenze. Va bene, in pratica non c'ho fega, però va bene. Per farti una passeggiata, vedere negozi all'aperto e invece stare dentro a un centro commerciale, diciamo che va bene. Nel corso del tempo, posso dire, è peggiorato sempre di più, nel senso che se all'inizio era un outlet effettivamente, tu andavi, facevi buoni affari, c'è stato un periodo, tanti tanti anni fa, c'ho andato con le amiche, proprio mentre facevo l'università, quindi parlando di tanti tanti anni fa, c'era addirittura un negozio che rivendeva Zara, H&M, tutte queste cose qui, a prezzi ridicoli, tipo 2 euro, 3 euro, 5 euro, e quello l'hanno chiuso tanto tempo fa, non c'è mai più stato. Una volta si facevano degli ottimi affari, io non so se vi ricordate video passati, insomma ho fatto degli affaroni a Val di Chiana, diciamo che stavolta grossi affari non se ne sono fatti. Ma comunque vediamo che cosa abbiamo comprato. Pensavo di tornare con più buste, con più cose, non che mi servisse qualcosa in generale, perché, lo sapete, collaborando con diverse aziende, soprattutto d'abbigliamento, e voi vedete sempre i video, diciamo che non è che ho proprio bisogno di qualcosa da vestire o di qualcosa in particolare. Io, lo sapete, non posso resistere alle cose con scritto Barbie, alle cose con gli unicorni, alle cose con gli orsetti del cuore, allo kittivarie, a quello non resisto, lo sappiamo, però se vedevo di dire, oddio, questo mi serve? No, non mi serve niente, posso fare tranquillamente quelle cose che ho nell'armadio. Potevo fare quelle cose che ho nell'armadio, pure prima di cominciare a collaborare con le aziende, pensate adesso. Quindi, diciamo che a me non è che servisse proprio qualcosa. Sono chiaramente rientrata da Crocs, ho rivisto le Crocs che mi piacciono, quelle nere platform, non le ho comprate neanche stavolta. Luca mi ha detto, ma compratele, te le regalo io, te le regalo io. Ma il problema non è che, cioè, non so, 50 euro, 8 euro che costano, il problema è che secondo me non me le metto per uscire e quindi sarebbero sprecate. Posso comprare delle ciabatte da 50 euro che sta dentro casa? Cioè, quelle te le compri se ci esci e quindi ci hanno un senso. Ma visto che io sono abbastanza certa che poi non ci esco, nonostante sono la cosa più comoda del mondo, mi sembrano soldi buttati. Speravo di trovare la versione sandalo che mi piace tantissimo, sono queste. Mi piacciono da morire, ma non c'erano, c'erano solo le Crocs a forma le Crocs di vario tipo, varie altezze, varie cose, ma non c'erano quelle a forma le sandalo, quindi non le ho neanche potute provare. Perché quelle le avrei provate, la mia paura è che questo modello mi fa andare avanti il piede, però magari no, quindi se le provavo e me stavano bene, me le sarei comprate. Non c'erano, quindi ho risolto il problema all'origine. Comunque abbiamo fatto shopping in due negozi, all'Adidas e al Mega Outlet. Se non sapete di cosa parlo è perché non avete mai visto dei video su questo canale, perché ce vado spesso, quando capito là ce vado, e è l'outlet proprio, quindi molto più economico, di Tezenis Calzetonia Intimissimi. posso dire che hanno cambiato le cose anche lì, e diciamo che prima conveniva, ma comunque. Io direi di cominciare da Adidas, perché di solito noi facciamo sempre shopping alla night, perché c'è degli ottimi prezzi, ottimi sconti, anche stavolta c'era il 30% sulle scarpe dal prezzo outlet, solo che una volta c'erano tantissimi modelli, anche super fighi. Cioè stavolta il negozio pareva che tipo dieci anni dopo l'uomo, tipo The Walking Dead, capito? Cioè il negozio semi vuoto, scaffali semi vuoti, pure vero che è lunedì, però è un outlet. E poi modelli classici, io e Luca vi sembriamo persone che indossano modelli classici? No. E infatti non abbiamo provato niente, strano perché poi, veramente ho sempre comprato le scarpe a Nike, però erano tutte banali, quindi non abbiamo provato niente. Mentre invece all'Adidas, io non mi sono comprata niente. Ho visto un bel paio di scarpe platform, classiche Adidas, ma zebrate, molto carine, sì mi piacciono cose zebrate, molto carine, ma non ho più spazio per mettere le scarpe da ginnastica, ne ho 4-5 paia e manco quelle mi riesco a mettere così spesso, quindi sarebbero stati, non costavano tanto, costavano tipo 50 euro, erano super scontate, però sarebbero stati veramente soldi buttati. belle, molto belle, me ne pentirò, probabile, però non le ho comprato. Mentre Luca invece si è comprato queste sobri scarpe, quando intendo che noi non siamo persone sobrie, ecco qua, tiè, sono belle, sono, hanno proprio questo loghino qua, Adidas, tutti questi super disegni, sono delle Stan Smith classiche, ma sono la versione Pride, che visto che siamo a giugno, mi sembra che appropriato, e la scarpa è molto molto carina, è così su entrambi i lati, c'ha tutti i pupazzetti, davanti il logo è Rainbow, credo siano Pride dell'anno scorso, si chiamano Stan Smith Pride, ha preso il 42 e mezzo, c'è scritto solo Stan Smith Pride, sono belle, Love Unites, dentro c'ha scritto così, sono molto belle effettivamente, te le danno senza scatola, perché queste erano nella parete degli ultimi numeri, praticamente c'è, all'Adidas di Valdigan c'è una parete, che ci sono gli ultimi numeri, quindi devi essere proprio fortunato, però effettivamente costavano 47 euro, 49 euro, invece che tipo 100 e passa, quindi non c'è scritto il prezzo scontato, però era più di 100 euro, perché so Stan Smith in edizione limitata, quindi alla fine questo per me è un affare, cioè nel senso una cosa che non trovi più nei negozi, è particolare, l'hai pagata con molto molto sconto, più del 50%, per me è un affare, sono belle effettivamente, poi sono delle pelle, sono tutte delle pelle, sono carine, c'è una bella scarpa, che dura anche tanto, particolari, perché tanto sapete che a Luca gli piacciono solo le cose strane, quindi benissimo, poi Luca è una vita, ma regà, una vita, che vuole la tuta dell'Adidas, ma vorrebbe la tuta dell'Adidas quella che c'era quando noi eravamo piccoli, che c'era proprio avuto 12-13 anni, 14 anni, c'era la tuta dell'Adidas, c'eravamo tutti la tuta dell'Adidas, chi è che non c'era la tuta dell'Adidas, non quella con i bottoni, quella prima, quella solo con le strisce acetata classica, ok? Non l'abbiamo mai trovata, entriamo, e c'era una tuta dell'Adidas, sempre acetata, un po' più pesantina, molto simile a quella classica, che c'eravamo quando eravamo piccoli, solo che adesso vendono il sopra e il sotto separato, 49 euro sotto e 56 euro sopra all'outlet, va bene, comunque se la prova, gli piaceva, vabbè, prendila, cioè se ti piace, è una cosa che la chiedi da una vita, mentre lui se la stava provando, io giravo per il negozio, leggo tute complete 49 euro, in che senso? Quindi sono andata a vedere, e era quella la tuta che noi cercavamo, cioè quella di quando eravamo giovani, ok? E infatti era completa, non era venduta separatamente, e quindi in realtà ho posato quell'altra, gli ho fatto provare questa, che era esattamente quella che voleva, e abbiamo preso questa, che è di un acetato molto più leggero, non so se ve la ricordate, quindi quell'altra invece era come un acetato pesante, ma soprattutto non c'ha, perché l'altra qui c'ha una striscina bianca, tipo nella cucitura, che va così, mentre invece questa è proprio quella di quando eravamo giovani, lo chino adidas, le strisce sulle braccia, colletto con la zip, la zip che sta apre fino in fondo, acetata, e il pantalone uguale, a differenza del fatto che, secondo me, quella che avevamo noi sotto non era stretta, però non me lo ricordo questo particolare, ce l'avevo, ce l'avevo nera con le strisce verdi fluorescenti, bellissima, però non mi ricordo se sotto era stretta, o dritta, cioè cadeva dritta, se ve lo ricordate scrivetemelo nei commenti, comunque questa è molto simile a quella che cercava Luca, ha preso una L, perché la M era veramente troppo aderente, soprattutto sulle cosce, mentre la L gli sta perfetta, super felice, spendendoselo 49 euro, e infatti poi si è preso le scarpe, perché adesso ho risparmiato i sordi del pezzo, del pezzo doppio della tuta, e quindi alla fine abbiamo speso 10 euro di meno, ma comprando tutta la tuta e pure le scarpe, e questo era lo shopping di Adidas, veniamo all'outlet, allora, se non l'avete mai visti, vi invito a vedere i video di un po' di tempo fa, sul canale, tipo un anno fa, ma anche due anni fa forse, anche di più, scrivendo, basta che cercate, che ne so, la bobbina spaccio calzedonia, tipo così, perché una volta questo posto si chiamava spaccio, adesso si chiama outlet, c'è la fregatura, vi spiego, una volta le cose, non posso dire, te le tiravano, cioè, mi ricordo una volta che io ho comprato tantissime cose, tipo tantissime magliette, a maniche corte, ancora ce l'ho, quelle tipo Gossip Girl, quella con 90-210, uno sfraccello di magliette, pagandoli un euro l'una, oppure una volta ho comprato tantissimi maglioni, se ho uscigliare là, ho speso 30 euro, cioè, o i jeans, cioè, veramente, una volta le cose te le tiravano, cioè, sembrava che te dovevano dai sordi loro a te, ok? Adesso le cose sono un po' cambiate, nel senso che una volta potevi trovare i costumi a un euro, a 50 centesimi addirittura, cioè, le cose proprio costavano pochissimo, i costumi costavano 5-6 euro al massimo, diciamo che adesso i prezzi si sono un po' più alzati, tant'è che, non ve li dico quanto ho speso alla fine, allora, ho preso tante cose, però, non da giustificare questa cifra, comunque, cosa ho preso? Allora, ho preso diverse mutande, tutte spaglie, io non sono tipo da abbinare sopra e sotto, quindi, ma interessa, ho i reggiseni che mi sono comodi, e poi compro i mutande a casaccio, però ne ho prese diverse, perché le avevo già comprate l'altra volta, e fanno una buona riuscita, visto che ce ne ho tante un po' rovinate, e butto, e le sostituisco, io compro solo mutande che coprono il culo, quindi, ho preso diverse mutande che coprono il culo, chi di più, chi di meno, ma comunque tutte che coprono il culo, e le mutande costavano tipo tutte, due euro e novanta, una roba del genere, due euro e novantacinque, ne ho prese diverse, per quale motivo, a parte che mi servivano così butto, carina questa senza cuciture, mi servivano così butto quelle che sono rovinate, ma poi perché c'era una ulteriore promozione, rispetto al prezzo outlet, se compravi dieci pezzi, c'avevi il venti per cento di sconto sul tutto, mentre se compravi venti pezzi, c'era il trenta per cento di sconto su tutto, ora a trenta pezzi, non ce potevo arrivare perché, vi ripeto, mi sono comprata ai mutande, perché erano cose che costavate meno, sono esclusi calze, calzini, cose in super offerta, quelle tipo a un euro, che però non c'estava praticamente niente, cioè c'erano i jeans, quelli leopardati blu, che c'ho, però ce l'ho, e poi c'era qualche maglietta di Natale, niente di che, poi erano esclusi i leggings, vabbè, ora ci vedete perché ho presi quelli, uno, due, tre, quindi ho preso cinque paia di mutande, no di più, sei, queste le ho prese due volte, vabbè tanto sono mutande, sette paia di mutande ho preso, perfetto, di cui d'una doppione, ma va bene, è uguale tanto, poi si rovinano e si buttano, quindi sette paia di mutande, poi ci abbiamo, una maglietta, che però in realtà, se è presa Luca, non io, ecca qua, che è una t-shirt over, perché questa in teoria è una S, cioè, è gigante, però è una S, e se l'è presa per lui, 5,95 euro, poi da scontate il 20%, e poi, ah, io mi sono presa un reggiseno, bianco, semplicissimo, sperando che mi entri, non me lo so provato, ma penso che sì, e Luca si è preso questo costume, allora, questo costume, io non so se ve lo ricordate, no, vabbè, impossibile, ma, tanto, tanto tempo fa, io ne avevo comprati due o tre, così, testo modello, fatti così, a pantaloncino, lui se l'ho messo tantissimo, ce l'ho anche in palestra, ma l'avevo pagato tipo 2 euro, 3 euro, cioè, una cosa proprio, una cifra ridicola, ok? Oggi, lo stesso, identico costume, costava 12,95 euro, centesimi, ora, Luca l'ha sfruttato tanto, quindi, l'abbiamo preso lo stesso, perché comunque, quelli che c'ha, sono tutti rovinati, lo sostituiamo con questo, ma, regà, siamo passati da 1,2 euro, a 12,95 euro, scontato, il 20%, ma sono sempre 10 euro, insomma, da 1, non lo so, poi, praticamente, queste sono le cose che, 10 cose, da scontato il 20%, io, in realtà, ho preso queste altre due cose, solo che poi, quella mi ha detto, no, queste sono un'altra promozione, perché se prendi i tuoi pantaloni, quello meno caro, non lo paghi, e quindi, ho dovuto prendere, altre due mutande, per arrivare a 10 cose, e farmelo sconto su queste, e, prendi i pantaloni gratis, perché costavano tutte e due, la stessa cifra, e quindi va bene. Allora, ho preso dei jeans, ti servivano dei jeans, Chiara? No, assolutamente, però, molti dei jeans che posseggo, ancora, mi si chiudono, ora, mi si chiudono, ma, mi si chiudono un po', sotto vuoto, ok? E, chiudendosi sotto vuoto, facendo molto caldo, tendo a non metterli, perché, c'è sudo, tipo questi, sono comodi, perché, hanno l'elastico qua, e quindi, non mi fanno, e poi sono larghi sulle cosce, quindi, non, però, i jeans, proprio quelli stretti, quelli che qui, non me posso sedere, no, non ce la faccio ancora, e quindi, ho preso dei jeans giganti, sono proprio quelli, come si dice, bagging, hanno la coscia gigante, però, me li sono andati a provare, in realtà, la M, il punto vita, era talmente stretto, che me lo, c'è, era vita talmente alta, che li dovevi mettere, tipo qua, ok? Cioè, proprio, super stretti, e, mi si chiudevano, eh, però, mi stavano, super, a pressione, e quindi, ho detto, ma, scusa, se io prendo una L, semplicemente, non posso stare comoda, nella vita, che già la vita è tanto scomoda, non lo so, e quindi, ho preso le L, sono molto belli, allora, questi hanno questa fantasia floreale, molto interessante, molto larghi, molto freschi, cioè, il jeans non è mai fresco, però, chi è che insieme ti jeans, pure l'estate, e quindi, ho detto, ah bene, li prendo L, e, mi abbasso a questa cosa, di essere una L, in realtà, anche se continuo a ostinarmi, a comprare M, no, ma, sono dei jeans, capito, perché, se no, ti tagliano, ma a me si chiudevano, eh, però, erano troppo stretti, comunque, questi costavano 25,99, so, date Zenith, erano scontati a 5,95, però, se ne prendevi Dubai, a quello che costava di meno, non lo pagavi, quindi, ho messo a presa questi qua, molto carini, e poi, no, in realtà, ho preso prima quest'altri, perché erano questi quelli, che mi piacevano veramente, però, ho lo stesso identico modello, e ho preso questi qua, che sono Total Rosa Big Bubble, cioè, questa è proprio Rosa Big Bubble, che, tra l'altro, con le mie magliette di Barbie, si sposerà benissimo, forse con quelle bianche, però, perché rosa su rosa, forse non è il caso, però, erano troppo belli, per lasciarli là, 6 euro, cioè, costavano 5,95, ma uno non l'ho pagato, in realtà, io ho preso prima questo, poi, però, c'era pure questo, gli altri che c'erano, non mi piacevano, ho detto, vabbè, ma senti più tutti e due, ma che mi frega, e quindi, ho preso queste cose, quindi, quelle 10 cose, questi due jeans, per un totale complessivo, di 45,10 euro, che se vedete i video vecchi, con 45 euro, portavo via tre buste, quindi, sì, outlet, per carità, se ti servono i vestiti, fai dei grandi affari, ancora, perché, le cose costano comunque meno, cioè, per esempio, i jeans sono ottimi a fare, 6 euro, un paio di jeans, cioè, solo questi due jeans, ne avrei pagati 50 euro, diciamo che, l'affare c'è, però, non è più come una volta, cioè, una volta, se vi andate a vedere i video vecchi, vi accorgete che, quelli erano affari veri, all'outlet, per il resto, ragazzi, c'erano i negozi, soliti, Alcott, centrale da Alcott, i prezzi a casaccio, li fanno, non lo so, cioè, una maglietta, con una stampetta, pure, così, normale, insomma, 16 euro, una cosa del genere, ma davvero? ma in che senso? C'era una camicia, il Luca, quelle camicie che si mette Luca, era prezzata 51 euro, scontata 25, ma 51 euro, chi ha pagato quella camicia? Quelle che c'è in armadio di Luca, ha pagato tutte 8, 9, 10 euro al massimo, 15, se ci vogliamo rovinare, quella era prezzata 51, scontata 25, ma siamo matti? Comunque, per il resto, non c'erano cose, che ci servivano, che ci attraevano particolarmente, costumi, li ho visti, erano bellissimi, ce n'erano un botto, ma non mi servono, A perché non devo andare in vacanza, B perché ce n'ho diversi, e anche se dovessi andare in vacanza, potrei sfruttare quelli che c'ho, e quindi non mi andava di accumulare, in modo compulsivo, altra roba, oh ma ci sono anche lacce di ricambio, nelle scarpe bianche, wow, non mi va di accumulare, in modo compulsivo, altra roba, anzi, mi dovrò decidere a aprire questo vintage, continuo a dirvelo, ma continuo a non trovare il coraggio, di cominciare a fare le foto, e a caricarle, quindi vi prometto che lo farò, perché c'ho veramente un sacco di roba, da dare via, e ve lo dico, cioè metterò dei prezzi veramente ridicoli, quindi va bene, seguitemi magari su Instagram, che appena carico le cose, lì ve lo dico in tempo reale, e qui ci vorrà un giorno per dirvelo, perché video poi ve lo carico il giorno dopo, e niente, questo era il mio shopping, basta, non è stato un grande shopping effettivamente, quindi, da questo video, dove facciamo shopping all'outlet di Valdigliana, è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!